Cari amici di Ancora Italia e cittadini italiani tutti, buona domenica. Questa comunicazione di oggi è particolarmente importante perché sono successe delle cose negli ultimi giorni di una gravità inaudita. Il governo rappresentato da Mario Draghi, un non eletto, che si comporta come se fosse investito dal diritto divino, ha messo in discussione i principi che fondano la nostra democrazia. Lo fa in maniera sempre più evidente, lo fa in maniera sempre più arrogante. Qualche giorno fa il Corriere della Sera ha pubblicato una lista di proscrizione contenenti i nomi di intellettuali, giornalisti, politici, colpevoli soltanto di esprimere una linea di indirizzo diversa rispetto a quella imposta da Mario Draghi per conto di paesi stranieri. È bastato puntare su un punto di vista diverso per finire dentro una infame lista vergata su uno dei più importanti giornali italiani. Ebbene, le reazioni rispetto alla violenza di questa operazione non sono mancate. In tanti ancora vivi hanno gridato allo scandalo, hanno spiegato che in un sistema formalmente democratico e liberale non è possibile minacciare, intimidire, puntare, colpire per ora mediaticamente quelli che non sono d'accordo con gli ordini del governo. Ebbene, sulla base delle forti reazioni anche giornalistiche rispetto ad una operazione a dir poco spericolata, il sottosegretario Gabrielli ha deciso di desecretare il documento alla base dell'articolo pubblicato dal Corriere. Ebbene, con sommo stupore ci siamo accorti che nelle pieghe di quel report, in realtà raffazzonato, banale, mediocre, per certi aspetti davvero poco significante, anziché trovare i nomi di quelli che erano stati sbattuti in prima pagina sul Corriere, nomi illustri, come quello ad esempio del professore Orsini, abbiamo notato che è citata Visione TV e viene bollata come fonte di disinformazione italiana. Ebbene, io non mi rendo conto di come sia possibile fare un'operazione del genere. Visione TV è una testata libera che si orienta di volta in volta soltanto al fine di offrire al pubblico una verità per come a noi appare. Visione TV non è eterodiretta da nessuno. Visione TV serve, limpidamente, a viso aperto, ogni giorno, con fatica, un'idea del mondo, dell'uomo, della realtà, delle cose, che può piacere o non piacere. Ma Visione TV non è mai stata, non è, nemmai sarà uno strumento nelle mani di nessuno e nessuno deve permettersi di bollare una realtà come la nostra, lo ripeto, libera e forte come un centro di disinformazione permanente. La disinformazione semmai la fanno altri. La fanno quelli che hanno rapporti troppo stretti con gli apparati di intelligence, la fanno quelli che si fanno veicolo muto e acritico dei voleri del potere. Noi siamo liberi di contestare un governo che non ci rappresenta e che continuiamo a ritenere pericoloso per la tenuta stessa della nostra vita democratica. Di cosa ci si accusa nel concreto, cari amici? Di avere osato riportare le parole di Papa Francesco, che tempo fa disse come alla base del conflitto ci fosse non soltanto l'idea di Putin di entrare in Ucraina, ma anche il continuo abbaiare alle porte della Russia, da parte della Nato. Ebbene, per esserci limitati a riportare, commentando, secondo il nostro libero punto di vista, le parole del pontefice, siamo finiti dentro un report dei servizi di intelligence, accusati di essere uno strumento di disinformazione. In quel report si dà conto pure del fatto che il racconto di Visione TV, che ha osato riportare le parole del Papa, che punta il dito contro la protervia della Nato, sarebbero state rilanciate persino da un giornale russo e da un blogger su Telegram. Noi non avevamo contezza dei due rilanci prima di leggere questo report. Ebbene, la manovra che è messa in piedi è chiarissima. C'è il tentativo di criminalizzare il dissenso, al fine di blindare un sistema di potere che non è più apprezzato dal popolo italiano. Come sappiamo, tutti i sondaggi di opinione testimoniano una realtà sgradita ai padroni, ovvero gli italiani non vogliono continuare a soffiare sul fuoco di una guerra che è contraria ai nostri interessi, che è voluta soltanto dai soliti guerrafondai d'oltreatlantico. Gli italiani non vogliono validare questa situazione, non vogliono continuare a determinare un clima di guerra permanente. E siccome la gran cassa mediatica, cari amici, non basta più, e siccome il controllo totale di tutti i media mainstream, oramai completamente screditati, non passa più, non basta e non passa più, allora serve fare uno scatto in avanti. Serve costringere le persone libere a autocensurarsi, ad essere censurate direttamente, quando non si possono indurre i più deboli a scegliere la via comoda dell'autocensura. È lo stesso metodo, riveduto, corretto, potenziato, che abbiamo visto già all'opera al tempo del Covid. A questo punto, chiaramente, quel modo di fare, altro non era, se non una preparazione, in vista di una successiva implementazione di una dittatura fattuale, dentro la quale il potere non riconosce a chi si oppone, a chi dissente, neppure il diritto di esistere. Cari amici, io voglio dire con grande chiarezza, con grande franchezza, che mi rendo perfettamente conto della pericolosità della situazione. So bene, conosco bene la storia di questo Paese, so bene cosa è accaduto in anni passati, quando c'era bisogno di blindare con operazioni specifiche una struttura di comando che non era più apprezzata dalla maggioranza dei cittadini. So che il periodo è grave, so che sarebbe davvero deleterio sottovalutare alcuni segnali che continuano ad arrivare. Detto questo, però, vi assicuro che continueremo a fare il nostro lavoro come e più di prima, con lo stesso coraggio, con la stessa costanza, con lo stesso approccio, con lo stesso desiderio di rimanere liberi, mentre altri preferiscono, per pavidità o semplicemente per opportunismo, girare la testa dall'altra parte. Noi di Visione TV non abbiamo mai negato la parola a nessuno, non siamo mai stati condannati per diffamazione o per avere raccontato menzogne da nessun tribunale. Noi abbiamo, a viso aperto, sempre difeso e proposto una linea di indirizzo che è il risultato delle nostre profonde convinzioni. Non possiamo credere quello che il potere vuole per forza farci credere. Siamo liberi e liberi continueremo ad essere. Avanti, uniti, insieme, con coraggio, senza paura, perché la situazione è grave, ma diventerà ancora più grave se gli uomini forti, coraggiosi, rispettosi del perimetro costituzionale dentro il quale siamo nati e cresciuti rinunceranno a vivere da uomini liberi. Noi continueremo a lottare. Noi continueremo a lottare. Noi continueremo a lottare.